Da bambino ho fatto delle raccolte di piume, di uccelli, di tutto, di francoboli come tutto, di molte cose. E così quando nel 2001 sono andato in pensione, ho lasciato il Louvre, e sono venuto qui a Venezia a spendere una settimana al mese in pace e anche per lavorare a conto mio su libri di storia dell'arte naturalmente, mi sono detto che anche qui bisognava fare una raccolta. Gli animali mi hanno piaciuto per motivi diversi. L'uno è che mi pare che l'invenzione rimane molto forte in questa zona. Voglio dire che i maestri veneziani noti e anche sconosciuti, questi maestri veneziani che hanno fatto animali, li hanno fatto per il loro piacere, e li hanno fatto anche per il mio piacere, e li hanno fatto spero per il piacere di quelli che vengono a vedere la mostra. Sì, questi animali li ho scelti qui in mercatini e nei negozi di Venezia, anche un po' qualche volta in asta a Parigi. Li ho comprati, direi, scegliendolo soltanto perché mi piacevano. Non c'era idea di fare una cosa logica, classificata. Direi che il mio approccio di questa raccolta di animali è molto diverso, completamente diverso, dal mio approccio di studioso, perché io in un certo modo ho due vite. C'è la vita del collezionista e c'è la vita del studioso, che sono due vite completamente estranei o l'una all'altra. La scelta si fa, e la scelta si fa anche perché qualche volta questi animali costano pochissimo. Naturalmente so molto bene che quelli che costano 10, 20, 100 volte di più sono considerati come più belli, ma sono più belli, può darsi, ma direi che anche quelli a 3 euro, a 5 euro hanno qualcosa che bisogna di… sarebbe peccato che questi animaletti considerati senza nessun valore fossero completamente dimenticati. E io credo che per Murano mostrare anche questo è alla gloria dei maestri muranesi. Ho conosciuto un po' di questi artisti che hanno fatto queste mostrazioni. Insisto sulla parola artista, perché il vetro in un certo modo c'è una parte artigianato e una parte artista. E direi che qui la mostra piuttosto, naturalmente l'artigianato, l'abilità manuale cruciale, ma il più importante direi è l'invenzione. E a Madi, sì sì, è la prova che c'è ancora, che c'è a Venezia una possibilità di inventare, di ridare un po' vita, di dare vita alla città. Grazie a tutti.